ecco oggi sono rimasto a casa al computer perché voglio parlare dei commenti che ci sono stati sotto ai miei video e la cosa non mi è piaciuta affatto perché tra di voi anche se devo dire che ci sono molte persone che mi hanno appoggiato per quello che faccio altre persone mi hanno criticato e queste persone hanno fatto dei commenti che non mi sono piaciuti anche perché certe persone non hanno manco la faccia e sono quelli che molestano e sono quelli che vanno in giro per youtube a creare scompiglio a creare casino e fanno dei commenti antipatici verso le donne come il peggior molestatore del mondo è ora di dire basta a questi maleducati non ne possiamo più io con pupi antichi mio fiero scudiero ci mettiamo la faccia in ogni cosa che facciamo e questi sono tutti i fake che vanno lì per insultare le persone e non ci mettono neanche la faccia è ora di dire basta a questo scempio venite con noi metteteci la faccia pure voi se avete qualche critica fatela ma metteteci nome e cognome come facciamo noi perché noi siamo persone serie e magari se avete qualche critica venite con noi ci facciamo un caffè insieme ci facciamo qualcosa insieme magari andiamo tutti a giocare a bosch eccomi qua che gioca a bosch insieme a pupi antichi insieme agli altri dell'associazione venite con noi fatevi vedere chi siete è ora di dire basta a nascondervi non bisogna molestare più nessuno basta con questi fake fatevi vedere venite con noi a giocare a bocce si risolve tutta con una bella partita a bocce e per favore non molestate più nessuno